Uno dei punti di forza dei container è l'omogeneità che offrono rispetto a tutti gli algoritmi che potremo applicare su di essi. Questa uniformità è stata in gran parte raggiunta grazie all'utilizzo dei cosiddetti iterator, iteratori. Potete pensare ad un iteratore come a un vero e proprio cursore che potrà essere spostato in avanti e indietro sugli elementi di un container. E la sintassi con cui potremo comandare le operazioni ci è familiare perché è praticamente quella dei puntatori. Dato un iteratore agganciato a un qualche elemento del container potremo recuperare il valore di quell'elemento con l'asterisco come faremo con un puntatore. Questo se gli oggetti sono dei semplici tipi predefiniti ma naturalmente avremo a disposizione anche l'operatore freccia per accedere a oggetti di una classe o di una struct. Dato un iteratore per spostarci all'elemento successivo potremo utilizzare il più più come con i puntatori. E attenzione questo non funzionerà solo con un container ad allocazione compatta come il vector ma anche per tutti gli altri con una lista ad esempio. Potremmo confrontare con uguale uguale o diverso due iteratori per sapere se stanno individuando lo stesso elemento oppure no. Cioè se rappresentano o non rappresentano la stessa posizione nel container. Potremmo assegnare un iterator ad un altro. Lo step successivo è naturalmente come ottenere un iterator da un container. Ogni container della stl deve rispettare una certa interfaccia che prevede la presenza di metodi come begin e end che restituiscono appunto degli iterator. Il metodo begin come è facile intuire restituisce un iterator al primo elemento del container, end non proprio all'ultimo. Quello oltre. Questo è stato deciso per motivi tecnici perché semplificano le operazioni con gli algoritmi. Perciò per sapere se abbiamo consumato tutti gli elementi potremmo ad esempio confrontare l'iterator e dire andiamo avanti col più più finché l'iterator è diventato uguale a end. Cioè andiamo avanti finché è diverso da end. Alcuni iterator sono monodirezionali, cioè permetteranno soltanto di scorrere in avanti la struttura del container. Altri invece bidirezionali. Potremmo incrementarli e decrementarli per tornare indietro. Alcuni iterator consentiranno la modifica dell'elemento da loro individuato. Altri soltanto l'accesso. Cioè dai iterator a dai constant object. Che impediranno modifiche non desiderate. Ultimo particolare prima di iniziare col codice. Quando il container è vuoto, begin sarà uguale a end. Partiamo naturalmente con vector semplicini semplicini come questo v. Per scoprire che prima della versione 11 del C++ saremmo stati costretti a questa orripilante sintassi. Pesantissima. Per dire che cursore orrendo è un iteratore su un vector di int, avremmo dovuto usare questa dichiarazione. È un vector int iterator. Il valore di partenza è quello che ci è fornito dal vector stesso. Stiamo chiedendo al vector. Dacci un iterator al tuo primo elemento. V.begin. Per fortuna le cose non migliorate col C++ 11 abbiamo a disposizione la keyword auto che sfrutta il meccanismo di deduzione automatica dei tipi a nostro favore. Capiscerà solo insomma che cursore deve essere di tipo vector int iterator. Che poi spesso, come sintassi, è meglio integrare direttamente all'interno dell'intestazione di un ciclo, come in questo caso. Classico ciclo for per scorrere uno dopo l'altro tutti gli elementi di questo container. For out o it, che automaticamente diventa l'iterator. Begin, finché questo iterator è diverso da end e incrementando la posizione di un elemento di volta in volta, stampa l'elemento col C out. Asterisco, ben detto considerate l'iterator come se fosse un puntatore, e quindi asterisco it ottiene il value per stamparlo. Begin restituisce un iterator che permette di fare tutto, anche di modificare il valore dell'elemento puntato. Ecco che ho aggiunto qui sotto l'azzeramento di ogni elemento. La stampa la potremmo anche fare utilizzando l'ancor più conveniente range for, che chiede per ogni elemento X, e pensaci tu a definirlo del tipo giusto, due punti contenuto in V stampa quell'X. Pur così comodo, il range for purtroppo non garantisce la sufficiente flessibilità nel controllo dell'accesso che ci servirà invece in tante situazioni. Ma quando è lo strumento giusto, cavolo, che eleganza e che sinteticità! E adesso un esempio con l'iterator constant. Ho ripristinato i valori nel vector con questo assegnamento. Non lo sto creando, anche se di fatto verrà richiamato il costruttore su ciascuno dei valori fornito in questa lista di inizializzazione. Il constant iterator è facilissimo da ottenere. Basta mettere davanti al begin e all'end questo c, che sta appunto per constant. Qual è la differenza? Che se ora tentassimo tramite l'iterator di modificare un elemento, il compilatore ci bloccherebbe. Nessun problema invece per un semplice utilizzo. In lettura, c'è una sette, l'azzeramento, la stampa, il ripristino e di nuovo la stampa. In ogni caso, attraverso un iterator non costante, non sarà comunque possibile modificare un container dichiarato in origine const. Il compilatore di nuovo ci blocca. E ora un errore insidioso. Immaginiamo di voler stampare gli elementi al contrario. Non fatevi tentare da questa forma. For auto, partendo dalla fine meno uno, e fin qui ci sta, secondo quello che abbiamo detto finora. V end punterebbe a uno dopo l'ultimo, tolgo uno, vado sull'ultimo. Per elaborare anche il primo elemento, non fermarsi sul secondo, come accadrebbe togliendo questo meno uno, vedete che la stampa si ferma sul due. Verbe spontaneo dire, ok, torna indietro ancora di un colpo. E con qualche compilatore, apparentemente, le cose potrebbero filare lisce. Ma è un rischio enorme. Il decremento di begin è in realtà indefinito. Per cui è meglio affidarsi a quel tipo di iterator pensati apposta, quando possibile, come lo è per un vector, utilizzare i reverse iterator che procedono dall'ultimo fino al primo. La cosa carina è che il controllo del ciclo è identico a quello dello scorrimento dall'inizio alla fine. Codifichiamo, infatti, per un iteratore che parte da rbegin, reverse begin, diverso da reverse end, e poi incrementiamo, apparentemente, ancora il iteratore. Ma siccome il iterator è tipo reverse, questo incremento viene poi internamente codificato come un torniamo indietro di una posizione. Vediamolo all'opera. 7, 6, 1. Piccolo particolare di ottimizzazione. Ho visto che si consiglia, quando possibile, di usare non l'incremento post, ma il pre, perché è leggermente più efficiente. E lo potreste anche capire, tornando a rivedere quelle lezioni sulla ridefinizione degli operatori standard, e in particolare il pre e il post incremento, perché il post incremento passa per la creazione di un oggetto temporaneo, perché deve rispettare certi meccanismi che ora non ho intenzione di rivedere, per cui, insomma, perde più tempo. Direi che per il momento sull'iterator può bastare. Aggiungiamo solo che questo tipo di iterator per i vector è detto il tipo random, perché permette di accedere liberamente applicando tutta l'artimetica possibile valida per i puntatori. Più più, meno meno, più uguale 2, più uguale 3, fare differenze tra iterator. Diciamo che è il tipo di iterator più flessibile. Quando sarà il momento, affrontando altri tipi di container, provvederò a introdurre anche altri tipi di iterator. La prossima volta riprenderemo ancora il discorso sui vector, completando con quei metodi che prevedevano l'utilizzo dell'iterator e che prima c'erano negati. A risentirci.